Dico, tu mi esalcuna, scuocate, mangelorù, venite adorevo. Dio ci dà con tutti i nostri cari, parola di Dio. Grazie a Dio. Dio ci dà con tutti i nostri cari, parola di Dio. Dio ci dà con tutti i nostri cari. Quello che voglio dire a tutti quanti, a tutti gli italiani in divisa e a tutte le altre nazioni che sono qui a lavorare in Afghanistan, è il mio più fervido augurio del più bel Natale che si possa trascorrere qui. Tanti auguri per un felice anno nuovo, grazie. Innanzitutto voglio rassicurare la mia famiglia per dire che qua è tutto a posto, è tranquillo. Sono già sanno perché non è il primo Natale che passo all'estero. E comunque di nuovo auguri e buon Natale a tutti.